Carissimi amici bentrovati, oggi voglio parlarvi di Santa Margherita Maria Alacoque. È una santa francese, una suora visitandina vissuta nella seconda metà del XVII secolo, un secolo francese di grande splendore. La Francia è una potenza europea, sotto Luigi XIV. Brillano grandi figure di santi come Francesco di Sale, come Vincenzo de Paoli. Ma tutti gli ambienti cristiani sono un po' alla prova dell'esperienza del jansenismo, questa corrente di pensiero cristiano che produce l'idea di un Dio molto austero che è venuto nel mondo per salvare gli uomini, ma non tutti, che desidera nell'Eucaristia entrare in comunione profonda di amore con i discepoli, ma a tante condizioni, per cui di fatto ben pochi sono gli eletti che possono accedere all'Eucaristia. È un clima molto austero, molto severo, che invece di rafforzare la devozione, la profondità e la coerenza, di fatto appesantisce enormemente e crea un senso quasi di tristezza, di pesantezza e anche di scoraggiamento. Molti, tutto sommato, invece di infervorarsi per il cristianesimo, rischiano poi di viverlo in maniera molto tiepida, quasi scoraggiandosi. È in questo contesto che il Signore suscita una santa donna, Margherita Maria Alacocca, questa giovane francese, perché con lui viva un'esperienza senz'altro mistica, cioè di intima unione e ricca anche di esperienze, di fatti, di fenomeni mistici. L'esperienza di Santa Margherita Maria Alacocca è quella che si lega ormai per sempre alla rivelazione dei misteri del Sacro Cuore di Gesù e quindi anche alla nascita di quella che oggi è diffusamente nelle nostre parrocchie, nelle nostre case, nei nostri cammini personali, la devozione al Sacro Cuore di Gesù che trova nella festa del Sacro Cuore la sua celebrazione annuale. Chi è questa santa? Nasce nel 1647 all'Ottocur in Borgogna, quinto genita di una famiglia medio-borghese, Claudio e Filiberta Alacocca. Ma questa ragazza, comunque fin da piccola, sensibile e desiderosa di consacrare la sua vita al Signore, vive un suo momento decisivo il 25 maggio 1671, quando 24enne, in visita al monastero di Parele Monial, sente distintamente, forte e chiara dentro di sé la voce del Signore che le dice è qui che ti voglio, è in questo luogo. E così lei, pochi mesi dopo, entra come suora visitandina nel monastero di Parele Monial. È qui che si consumano quelle che sono vere e proprie rivelazioni, rivelazioni che Gesù concede a questa santa. Attingendo dall'autobiografia, i scritti che per obbedienza alla sua superiore, lei stessa scrive della sua esperienza, ci lascia della sua esperienza, noi rintracciamo queste tre principali grandi rivelazioni. La prima è del 1673, è la festa di San Giovanni Evangelista, il 27 dicembre di quell'anno. Margherita Maria sta in adorazione nella cappella del monastero e Gesù appare a lei, appare e la invita a fare quella che fu l'esperienza di cui ci parla il Vangelo di San Giovanni Evangelista durante l'ultima cena. In quell'occasione Giovanni poggiò la sua testa nel petto adorabile del Maestro, del Signore Gesù. E Gesù la invita a fare la stessa esperienza. Ecco, Margherita Maria poggia la tua testa nel mio cuore. E così lei sperimenta e vede anche nel cuore di Gesù un incendio di amore. Gesù è incontenibilmente innamorato dell'uomo e ha desiderio di comunicare questo amore perché le persone non abbiano dubbio su quanto Dio le ama, su quanto Dio ama ciascuno di noi. Siccome Gesù vede l'umanità a rischio, a rischio di perdizione, perché è lontana dall'amore di Dio, ha scelto, proprio lei, sceglie questa donna come abisso di indegnità e di ignoranza. E così Gesù definisce questa ragazza. Quindi la sua scelta non è perché Margherita Maria è migliore di altre, non è perché lei ha doni particolari, ma semplicemente soprattutto perché è debole, fragile, ignorante. Proprio per questo sarà sicuro che l'azione di Dio sarà un'azione sua e non merito dell'umanità di Margherita Maria. Margherita vive una delle esperienze mistiche e classiche della letteratura cristiana che è chiamata lo scambio dei cuori. Gesù prende dal petto di Margherita il suo cuore, lo mette nella fornace ardente dell'amore del proprio cuore e lo infiamma di quello stesso amore perché lei possa sentire l'amore che Dio ha per noi, possa sentire insieme anche il dolore che nel cuore di Gesù è presente. Perché questa esperienza rimanga indelebile, Margherita Maria, da quella prima esperienza mistica, percepirà il dolore al costato tipico nel cuore trafitto di Gesù sulla croce. Questo dolore si riappotizza tutti i primi venerdì del mese. Intorno a lei, nel suo convento, le sue superiori, le sue consorelle, esplode il finimondo. Margherita Maria è pazza, Margherita Maria è una visionaria. Lo stesso confessore suo e di tutte le altre consorelle dice semplicemente, dice, dategli un po' più di minestra perché i suoi digiunni le stanno facendo male, sta perdendo la testa. Ma lei con umiltà accetta queste umiliazioni e risponde con una piena obbedienza. Il terreno è pronto per una seconda rivelazione. Nell'anno successivo, 1674, Margherita Maria, di nuovo, può gustare la visione del cuore di Gesù. In quella immagine che è a noi famosa, quella che in tantissime case si trova, in tantissime case cristiane, è l'immagine del cuore con la corona di spine intorno, segno dei nostri peccati che bucano, che feriscono il cuore di Gesù, e la croce sopra che viene piantata nel cuore di Gesù, quella croce che Gesù stesso dice essere infissa nel suo cuore fin dal primo momento del mistero dell'incarnazione. Gesù, come conseguenza di questa seconda rivelazione, chiede a Margherita Maria di vivere l'esperienza della Messa e dell'Eucaristia ricevuta nei primi venerdì del mese e chiede anche l'ora di riparazione da farsi fra le 23 e le 24 del giovedì precedente al primo venerdì del mese. Gesù chiede a lei anche di diffondere questo culto, perché la gente conosca, perché la Chiesa possa vivere la stessa spiritualità, ma lei si sente piccola e chiede aiuto, chiede di essere sostenuta. È per questo che Gesù le invia colui che Gesù definisce il tuo servo, un servo fedele e un perfetto amico. Si tratta di padre Claudio della Colombiera, un gesuita, che diventerà il suo confessore, confessore anche della comunità, e sarà il primo a credere, a rendersi conto che questa esperienza non è finzione, non è una visionaria Margherita Maria, ma è una donna, una discepola, prediletta che il Signore ha scelto per questa particolare missione. E così si arriva anche alla terza rivelazione, chiamata nell'autobiografia la grande rivelazione, è il venerdì dopo il Corpus Domini del 1674, dove Gesù, mostrando ancora il cuore sofferente a causa dei peccati dell'umanità, in particolare fa capire che un dolore specifico e più forte ancora che Gesù sperimenta è causato dai peccati delle anime consacrate. Sacerdoti religiosi, religiose, che rifiutano il Signore, che peccano, che tradiscono l'amore stesso di Gesù. E' l'idea della riparazione. Gesù fa capire che questo cuore trafitto ha bisogno di essere riparato e può, ogni cristiano, rispondendo a questo stesso amore, alleviare la sofferenza del cuore di Gesù, riparare ai peccati dell'umanità e ai peccati in particolare anche delle anime consacrate. Gesù chiede, al fine di questa grande rivelazione, che Margherita Maria, insieme a padre Claudio della Colombier, si impegnino perché la Chiesa possa celebrare ogni anno la festa del Sacro Cuore di Gesù, il primo venerdì dopo il Corpus Domini. Il cammino di questo impegno è paziente, occorrono tanti anni, però oggi, e ormai da tanto tempo, la Chiesa festeggia ogni anno questa solennità. Che dire di queste rivelazioni private? Sono importanti, non sono importanti, aiutano il cammino della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ci dice che insieme alla Chiesa istituzionale è presente come azione imprevedibile dello Spirito Santo l'azione carismatica, i carismi che vengono dati alla Chiesa ed è un modo con cui Gesù continua a dire cose alla sua Chiesa. Ma questi carismi sono sempre veri, sempre validi. La Chiesa stabilisce alcuni criteri importanti che vanno ben compresi. Ogni carisma e ogni rivelazione privata di questo tipo deve non aggiungere niente di nuovo alla rivelazione che è già compiuta, ma devono semplicemente aiutare, semmai approfondire, sviluppare, rinsaldare la fede in ciò che già Gesù, duemila anni fa, ci ha rivelato. Poi le persone carismatiche devono essere coerenti con una santità di vita esemplare. Margherita Maria è stata dichiarata santa da Benedetto XV nel 1920. Poi devono avere il riconoscimento della Chiesa. La Chiesa, dopo lungo studio, attento e prudente studio su questo fenomeno, ha compreso che effettivamente si trattava di una rivelazione reale, veritiera di Gesù, del suo Sacro Cuore. Ultima cosa, che comunque queste rivelazioni private sono da credersi con una fede umana, cioè non sono obbliganti per il credente, ma sono lasciate alla libera adesione. Questa devozione ha avuto un grande successo, segno che Gesù ha rivelato qualcosa di importante del mistero del suo amore. La gente risponde volentieri a questo invito ad amare e a riparare il cuore stesso di Gesù. Cosa vogliamo dire a Gesù, al suo invito ad amarlo sempre di più? Ricordiamo le parole dell'Apocalisse, dove Gesù dice magari i vostri cuori fossero freddi o caldi, purtroppo sono tiepidi, allora li vomito dalla mia bocca. Possa l'amore di Gesù guarire ogni tiepidezza della nostra fede, possa il nostro cuore innamorarsi sempre di più del mistero di Gesù, amare Dio, amare i fratelli. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.